parliamo di il mondo dietro di te live the world behind il nuovo film di sam ismael ismael produttore sceneggiatore di mr robots una serie molto conosciuta che è andata molto bene tantissimi estimatori io ho visto solo la prima stagione però non mi era dispiaciuta il film uscirà l'otto dicembre su netflix io l'ho visto in anteprima al cinema e non vi farò spoiler quanto mi sono divertito a vedere questo film veramente uno dei film più belli che ho visto quest'anno sono veramente felice di averlo visto spero che lo vedrete in tanti perché veramente bello sono contento che arrivi qualcosa di bello anche da netflix di più che di bello di vero cinema perché netflix ogni tanto tira fuori anche loro tirano fuori del vero cinema questo film prodotto netflix vi ho già detto è il film del produttore sceneggiatore di mister robots ed è il suo primo film quindi è un fammi controllare per sicurezza la voce hanno a un altro film che si chiama comet perdonatevi a un film precedente però del 2014 quindi è il secondo film che è una commedia drammatica sentimentale del 2014 che si chiama comet ed è un thriller e vede questa famiglia composta da giulia roberts e itan hoc due genitori di due ragazzi una ragazzina e un ragazzo più grande che decidono di fare un weekend fuori porta per levarsi da dalla gente togliersi dalla gente perché come dice appunto il personaggio della roberts vuole levarsi dal cazzo non sopporta più le persone intanto succedono le cose strane e si presentano alla porta di notte un tizio e sua figlia dicendo appunto di essere padre figlia e che quelle casa loro e quindi loro ovviamente la roberts non ha mai visto la faccia del proprietario quindi tutto il thriller si gioca su capire chi mente semente quali sono le cose che non sono state dette che cosa c'è dietro a questo questa situazione perché appunto come avete visto c'è anche dal trailer si vede che ci sono dei segnali che vengono mandati no di un attacco hacker per cui per tutto il film noi saremo veramente lì a chiederci che cosa sta succedendo se qualcuno sta manipolando qualcosa oppure è una messa in scena oppure quali sono gli obiettivi dei personaggi eccetera quindi è veramente un film che fino all'ultimo vi terrà col fiato sospeso con un interesse altissimo ci saranno tantissime scene sia di tensione e di tensione molto belle per tutto il film tra l'altro per cui è veramente un film che non annoia mai e ci saranno anche delle delle scene molto suggestive che hanno a che fare con gli animali con delle situazioni catastrofiche allora mi fermo qua mi fermo qua l'unica cosa che vi posso dire che io amo il cinema apocalittico anche quando diventa anche solo la paura di un apocalisse o di un o di un o comunque quando appunto le cose non funzionano in questo film appunto c'è ci sarà un problema che non va a internet perché non vanno i cellulari per cui perché con i cellulari sarebbe facile scoprire in pochi secondi chi sono questi due che si sono presentati di notte dicendo che è quello al loro appartamento che l'hanno affittato loro quindi un è un elemento importantissimo il fatto che non ci siano i appunto questi strumenti è un film che parla proprio anche del della dipendenza da questi strumenti del della fiducia nelle persone negli sconosciuti nelle persone che appartengono al tuo stesso stato al tuo stesso status la tua stessa civiltà quindi la sfiducia la paura la diffidenza l'odio che c'è tra tra le persone finalmente che da dentro tantissime dinamiche molto interessanti e che è girato in modo meraviglioso che è diretto benissimo veramente bello è veramente bello in tutto e per tutto montato benissimo è tanto tempo che che non non vedo un film così che ti trasporta così tanto sono un pochino di parte perché come vi ho detto mi piace tantissimo il tema tema di questo film mi piace tantissimo quindi mi suscita delle emozioni forse più forti rispetto ad altri ma sono molto 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 convinto che questo film piacerà tantissime persone indipendentemente da tutto perché film estremamente bello estremamente bello con una recitazione meravigliosa vi consiglio di vederlo in lingua originale perché ci sono itano che la stessa julia roberts fenomenali ma forse mi ha sorpreso di più anche se è una parte piccola ancora di più forse mi ha sorpreso tantissimo kevin bacon in riconoscibili proprio non lo so riesce veramente a sembrare qualcun altro niente ragazzi il film ve lo consiglio poi ecco magari quando uscirà e saremo magari tutti informati l'avremo visto tutti potremmo fare una chiacchierata anche più spoiler vi ricordo che sul discord sul mio discord ci sono canali anche vocali si può pensare di fare anche delle piccole session dove chiacchieriamo spoiler free appunto di quello che è accaduto nel film esce l'otto dicembre su netflix è un thriller e funziona veramente bene come thriller per me è uno dei migliori film che ho visto quest'anno grazie a tutti